Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Ecco quanto costa il look giallo fluo della showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. Una cifra, blu. Se Flavio Briatore continua a imperversare nei social network con le sue contestate prese di posizione sul giusto prezzo di una pizza di qualità, la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci si gioca la carta del look per conquistare la ribalta mediatica osando con le tonalità scintillanti del suo ensemble, infatti anche la showgirl calabrese ha ceduto al fascino dei colori fluo, il vero, must, dell'estate 2022 tanto da aver monopolizzato le sfilate primavera, estate 2022 sia per i look casual e metropolitani che per quelli da esibire agli aperitivi in riva al mare. D'altronde, le tinte energiche e vitaminiche, per intenderci, quelle fluo, sono quelle che è davvero impossibile non notare. Inoltre, a differenza dei tenui colori pastello, le tonalità, fluorescenti, sono perfette per distinguersi e per valorizzare la bronzatura. Insomma, dal verde al fucsia, dal blu elettrico al giallo lime, i colori fluo non possono assolutamente mancare nel guardaroba delle vacanze. Quanto costa il look di Elisabetta Gregoraci? Le tinte energiche e vitaminiche sono l'ideale in estate anche perché danno un'iniezione d'energia e di freschezza al look rendendolo solare, intrigante e di forte impatto e pertanto in linea con il mood dell'estate. I colori fluo sono i preferiti del famoso cuturi australiano Alex Perry. Nella sua ultima collezione ha optato per il giallo neon e il rosa Barbie come tonalità protagoniste dei suoi moderni outfit, dagli abiti ai blazer. Lo stilista è molto apprezzato dalle star. Hanno scelto di indossare le sue creazioni Katy Perry, all'NFL Honor 2022, Gigi Hadid, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Gwyneth Paltrow, Saoirse Ronan e Jennifer Lopez, l'abito sfoggiato in una delle sequenze finali del suo ultimo film. Anche il total look fluo di Elisabetta Gregoraci è griffato Alex Perry. Ecco perché sorge spontanea la domanda. Quanto devono sborsare le donne per poter esibire il suo stesso look? Il conto è presto fatto. Il crop top in crepe satinato, con scollo rotondo e bretelline sottilissime, è sold out sul sito ufficiale della Maison dove è messo in vendita al prezzo di 520 euro. Il blazer doppio petto, con tasche e spalline strutturate, costa 2.160 euro. Per completare il suo outfit, fluorescente, Elisabetta Gregoraci ha scelto un paio di boxer ampi con elastico in vita, prezzati a 680 euro, per un totale, quindi, di 3.360 euro, un importo, certo, non alla portata di tutte le donne. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.